Ciao ragazzi, oggi siamo a Pila a sciare e poi andremo anche a mangiare e a prendere le ariche, ecco il maestro. Grazie a tutti. 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 Che dici? Fa freddo? Ci buttiamo giù? Dai! Che arriva prima? Cosa? Uno spritz? Ma certo! Va bene! Ci vediamo in fondo? Grazie a tutti!